Sì, noi ormai siamo all'ottava edizione, la quarta che si tiene qua a Salerno di questo format del Borsa e della Ricerca che ha una duplice valenza. Da un lato manda un messaggio politico, Salerno, la nostra università, si vuole caratterizzare sempre più per essere un'università che punta sulla ricerca come tratto distintivo e dall'altro una grande valenza per i nostri giovani perché è chiaro che nel momento in cui tu metti insieme 22 università provenienti da realtà diverse, 50 grandi aziende tanti colloqui in relazione a quelli che sono gli spin-off, le start-up che nascono in ambito accademico e anche delle concrete possibilità di mostrare quello che è il frutto della ricerca. È un processo virtuoso e la nostra università ha già raccolto perché se è vero che abbiamo avuto maggiori finanziamenti non dipende dal fatto che ci siano maggiori risorse per l'università, anzi purtroppo abbiamo visto tagliare risorse al mondo dell'università però il fatto stesso che oggi le risorse siano distribuite su base meritocratica, in base alla produttività della ricerca e della didattica, ha visto premiare il nostro Ateneo e quindi questo deriva dal fatto che noi abbiamo accettato da subito la scelta di farci valutare, abbiamo accettato da subito la scelta della valutazione, della competizione e abbiamo cercato anche di creare quella rete con le altre università e oggi questo impegno che abbiamo mantenuto sulla borsa della ricerca testimone anche questo.